Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera di allenatore con il nostro Tottenham Signori vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi avete dato negli scorsi episodi e vi ringrazio per il consiglio che mi avete dato per quanto riguarda il delegare l'acquisto dei giocatori per chi si comprano a un prezzo minore Purtroppo avevo registrato il video successivo subito dopo quello della scorsa volta e quindi non sono riuscito a seguire il vostro consiglio Mi spiace tanto, penso però che a gennaio farò così, grazie ancora per il consiglio Come al solito ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram Riccardo Mezzoni trattino basso ragazzi, trovate il link per il mio profilo in descrizione Vado a salutare l'ultimo follower fresco fresco di due minuti fa, Tommaso trattino basso Simoncini, grazie Tommy per avermi seguito su Instagram Come al solito ragazzi vi ricordo che sono usciti tanti video in questi giorni, trovate tutto a fine video in descrizione nelle schede Quindi mi raccomando potete andare sul canale a trovare gli altri video che vi siete persi Allora raga, è finito il calcio mercato, adesso ci facciamo un po' di partite importanti Vedo qua il girone di Champions League che è stato estratto, andiamo a vedere un attimo i gironi prima Allora vediamo qui, Manchester United, Barcellona, Schalke, Copenhagen Udinese, Bayern, Monaco, Benfica e Celtic Ricordo che l'Udinese è la squadra che ha vinto l'ultima Champions League Chelsea, Follsburg, Athletic, Bilbao, Basilea, Tottenham, Roma, PSV, Red Bull, Salisburgo Dai, è un bel girone PSG, Napoli, Real Madrid, Zenit, Manchester City, Monaco, Porto, CSKA, Mosca, Juventus, Borussia Dortmund, Lione, Fenerbahce Arsenal, Sporting, Lisbona, Anderlec e Atletico Madrid, Manchester United, Barcellona che è sempre il girone A Oggi ragazzi ci andiamo a giocare prima di tutto questa grande parita contro il Chelsea di Maurizio Sarri Andiamo in campo, siamo al Webley Stadium Vediamo la formazione che posso inserire Spero quella titolare, se non erro dovrebbe essere rientrato Harry Kane Quindi Harry Kane lo mettiamo subito in campo E proverei onestamente Asensio sulla destra e Lanzini, no scusate Lautaro A sinistra, in porta alla fonte, un titi perché secondo me Alder ancora non è tornato Esatto, perfetto ragazzi, andiamo così dunque Andiamo in campo, mi piace molto come formazione Sempre sul pezzo e forza Tottenham Kane, delle alli, la larga per Martinez che passa su De Vrij Martinez col Mancino Fuori di pochissimo, prima occasione del match Una parita bellissima raga Bellissima veramente, qua Martinez prende il tempo a Matip E poi col Mancino a incrociare, non riesce a inquadrare lo specchio Peccato raga Cancelo, fa andare Harry Kane, attenzione Kane C'è la spilliqueta che si fa vedere, poi torna De Vrij Kane però gli ruba di nuovo il pallone Kane prova il tiro a giro di Mancino Palla fuori di qualche metro Courtois non si è neanche tuffato Peccato raga, stiamo spingendo molto adesso Attenzione a Dele Alli, c'è il destro caldo Dele Courtois, il tiro di Dele Alli era centrale Primo calcio d'angolo del match per il Tottenham Goresca, fa andare Dele Alli, attenzione perché ha preso in controtempo a spilliqueta Dele Alli, Dele Alli, se ne va Dele Alli l'appoggia, Ericsson se la mette sul destro C'è Kanté però, mamma mia raga, che partita Che partita è questa Rispondiamo colpo su colpo ai possibili attacchi del Chelsea È veramente una grande partita, molto fisica, molto tecnica Attenzione ancora Kane Kane, la larga per Assensio, col sinistro Assensio Ci pensa Courtois a mettere la palla larga Martinez la rimette in mezzo Ancora Courtois, che spettacolo di partita raga Finisce quel primo tempo, signori Primo tempo di una partita bellissima In realtà le occasioni più importanti le abbiamo avute noi Il Chelsea non ha mai tirato in porta Però è bello perché Siamo molto concentrati anche defensivamente Riusciamo a chiuderli e a ripartire bene È veramente una grande partita Il Chelsea con Carval spinge tanto Con Kanteba Kayako recupera un sacco di palloni Si fa un po' fatica Kane, per Ericsson A incrociare ancora Courtois Mamma mia raga E sicuramente Molto, molto merito va dato A Courtois Per questo 0-0 ancora Fa andare Lautaro Attenzione a Grimaldo Che si è spinto in avanti tantissimo Grimaldo la gioca poi Al centro dove c'è delle ali Courtois Ma non ci posso credere raga Ma che sfortuna Goresca Lautaro Si, si per Dele Si per Dele Col mancino Dele Col mancino Dele Finalmente 1-0 per il Tottenham Signori Finalmente Che partita raga Che divertimento Che bellezza Che Tottenham Altra azione splendida del Tottenham Con Lautaro Che aspetta l'inserimento di Dele Che col mancino questa volta Bugatti Bocurtois Finalmente raga Quanto avevamo attaccato anche in questo secondo tempo Nulla da fare per il Belga In questo caso Perché il tiro di Dele Ali È veramente ravvicinato E molto potente Attenzione ad Asensio Ha recuperato davvero un gran pallone Kane Per Dele Ali Attenzione ad Dele Ali Aspetta l'inserimento Di Lautaro Martinez Servito adesso Martinez Martinez Se la mette sul mancino De Vrij Che grande chiusura Cercavo di Non fargli capire dove sarei andato È stato veramente attento De Vrij Attenzione a Courtois Che pressato Deve mettere il pallone in rimessa Laterale Adesso qualche cambio Lo dobbiamo assolutamente fare Fuori Asensio Anche se potrebbe essere utile Dentro Yarzabal Io toglierei anche Eriks E ne metterei Zielinski Finisce qui signori Finisce qui Vinciamo noi 1-0 Ma che partita è stata raga Una partita bellissima Veramente Stupenda Ve l'avrei fatta Volentieri vedere tutta Ma per ragioni tempistiche Non si può fare È stata una verità Lottata A centro campo Alla fine con i nostri mezzi Siamo riusciti a vincerla Tre giorni signori E Abbiamo La partita Offerta per il trasferimento Di Jungminson Signori 48 milioni Attenzione perché a gennaio Li vendiamo tutti 48 milioni per Jungminson La trattiamo raga La trattiamo assolutamente Potete chiederne 68 Ma anche 60 Li accetto Andiamo così 62 milioni e 500 Insomma Non si sono alzati di molto 57 milioni Per Jungminson Io onestamente Li accetterei pure Dai 59 milioni Dai Ok Perfetto Quindi signori A gennaio Dovremmo assolutamente Rinforzarci Perché abbiamo venduto Yarzabal E anche il buon Jungminson Se trovano chiaramente L'accordo Ragazzi andiamo a giocare La partita contro il PSV Adesso non so che problemi Ci siano di formazione Prima giornata Di Champions League Ah Umtiti Umtiti è squalificato Perfetto signori Andiamo a giocare Questa partita contro Il PSV Andoven In casa Con questa formazione Bale Kane E Asensio Il credente Dele Alli Sostenuto da Brozovic E Goresca Cancelo Anton Carter Vickers E Tagliafico I difensori La fonte in porta Sempre sul pezzo Andiamo in campo Forza Tottenham Bale Dele Alli Dele Alli Mattia nel processo Del pallone La gioca ancora Garrett Bale Che se la mette sul mancino Se ne va Bale Con un'ottimo Con un'ottima giocata Bale L'appoggia poi A Cancelo Che la mette in mezzo Di prima attenzione Dove c'è Asensio Che prende il tempo A tutti Il portiere Para Ma Dele Alli Successivamente La mette dentro Signori 1-0 per il Tottenham Dopo 13 minuti Ottimo stacco di testa Di Asensio Che deve impegnare Particolarmente Il portiere Ottima La palla in mezzo Di João Cancelo Forse il portiere Poteva pure uscire Dele Alli È prontissimo È sveltissimo A metterla in porta Col mancino Passiamo subito In vantaggio In questo primo match Di Champions League Kane Per Garrett Bale Attenzione a Bale 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 La gioca poi a Kane Col mancino Kane Zut Ottima parata Gran palla Recuperata da Bale Attenzione Bale 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 Spacca tutto Bale Una finta Se la mette sul Ma che palla per Kane Signori Che gol Che gol Che gol Che gol Che gol Che spettacolo Garrett Bale Che sta calando Ma è ancora in formissima Guarda qui che palla Spettacolare Tutto Tutto buono Lucas Sen Si perde Harry Kane Che col mancino Bucca Zut Sul primo palo Veramente Veramente Una bellissima azione Per Garrett Bale E chiudiamo al meglio Il primo tempo Raga Con questo raddoppio Faccio già qualche cambio Perché ha senso Ammonito E stanco Non mi piace Tagliafico Bellissima la palla Per Dele Alli Che la mette in mezzo Di prima intenzione Arriva Goresca Ottima chiusura Di Hendricks Brozovic Subito per Tagliafico Ripropone L'azione d'attacco Il Tottenham La palla La palla arriva Goresca Che ci prova Col mancino La palla è alta Attenzione Dele Prova a restituire Il favore A Bale Che la mette in mezzo Un'altra palla Splendida Per Harry Kane Questa volta Zut Attentissimo Facciamo entrare Maffeo Al posto di Cancelo Goresca Dalla bandierina Prova Un colpo di testo Spettacolare Dele Alli Che si è praticamente Rotto il collo Per questa frustata Veramente spettacolare La traversa Di Dele Alli Oh Dele Alli Bellissima La palla per Kane Che è in posizione regolare Kane Chiude il match Se prima ancora Non lo era 3-0 Per il Tottenham PSV Inerme Signori Non Non sono riusciti A giocare Devastanti Stiamo giocando Veramente bene In queste due partite La squadra Mi sta girando A meraviglia Poi inventiamo Dei passaggi clamorosi Raga Inventiamo dei passaggi clamorosi 3-0 signori I primi tre punti Nel girone Finisci qui dunque Signori Come detto Tre punti nel girone Un punto per gol Signori Ci andiamo a casa Con un bel bottino pieno Molto bene Girone Che non ci deve dare Troppe difficoltà Dobbiamo essere onesti Se puntiamo alla vittoria Della Champions Queste partite Devono essere Non dico una passeggiata Ma quasi Salisburgo e Roma Che pareggiano 1-1 Udinese Che batte 2-0 Il Benfica Mamma mia signori Che spettacolo Nel nostro Udinese Ok signori Ci entrano 67 milioni Per Oyarzabal Molto bene Ci abbiamo fatto Una bella plusvalenza E adesso andiamo a Sistemare un po' La formazione Per questa partita Contro L'Albion No non mi ricordo Chi era Il Brighton Se non sbaglio Ma ci andiamo così Direi Perfetto Simuliamo questa partita Contro il Brighton Sì siamo ospiti Quindi ragazzi Aspettiamoci Delle brutte sorprese Oyarzabal 1-0 per noi Bravissimo Dopo 10 minuti Entra Son Al posto di un centrale Difensivo Ragazzi Martinez Raddoppia Signori Vinciamo 2-0 Ottima partita Bravissimi tutti Bravissimi tutti E se iniziamo a prendere Fiducia anche nelle simulazioni La cosa si fa Veramente Veramente Molto interessante Perfetto raga Io direi di simulare Anche questa partita Qui contro il Fleetwood Farei un po' Di cambio Di formazione Perché Si stanno lamentando Si stanno lamentando In un po' Di giocatori Quindi magari Mettiamo Maffeo Lanzini a sinistra Martinez Oyarzabal E chi altro si lamentava Nessuno Nessun altro Se non sbaglio Ok Ci andiamo con questa Formazione Simuliamo di nuovo Primo turno Di Carabao Cup Lautaro Martinez La sblocca Al trentacinquesimo E sempre Lautaro Martinez Raddoppia 2-0 Per noi Passiamo il turno Raga Con qualche difficoltà Molto bene Lautaro Abbiamo venuto Jungminson Signori Ci entrano 120 milioni Per il mercato 120 milioni Non sono male Adesso parete Contro il West Bromwich Raga Che andiamo a simulare Per giocarci Poi La partita contro Il Red Bull Salisburgo Siamo in casa Io direi che Potrebbe rimanere Pure questa La formazione Al posto di Carter Vickers Direi che potrebbe giocare Anton E direi che può giocare Anche Tagliafico E' tornato Lucas Moura Perfetto Simuliamo anche questa partita Contro il West Bromwich Anche se è messo Molto bene in classifica Andiamo a vedere La rosa Ospina Castagne Sainsbury Salcedo Blind Phillips Field Cristoforo Bittencourt Mahi Edward Cabral Poi vabbè Dopo ci sono Con Cabral I sostituti Però per il momento Siamo avanti 2-0 Con gol di Umtiti E Lautaro Martinez Molto bene Chiudiamo 3-0 Gol anche di Jungminson Perfette queste simulazioni Veramente Perfette Perfetto Andiamo a giocare La partita Contro il Salisburgo In Champions League Chiaramente Con questo 11 Qui Andiamo in campo Sempre sul pezzo E forza Tottenham Però mi sono dimenticato Di mettere in campo Scusate Tra i panchinari Il buon Lucas Che è tornato Magari qualche minuto Glielo facciamo fare Andiamo in campo Dunque Sennaceni Che la sponda Lanzini Lanzini può correre Non lo ferma nessuno Lanzini Ramaglio lo insegue Lanzini è molto più veloce La mette in mezzo La palla è corta Attenzione A Furlen Il portiere poi la mette fuori Arriva Lautaro Che la sponda Per Gonesca Che gol ha fatto Gonesca Che gol 1-0 Tottenham Dopo 14 minuti Nella scorsa partita Se non sbaglio L'abbiamo sbloccata Dopo 13 Ma questo Tottenham Oggi è Infuocato Qui non c'è Secondo me fallo Sul portiere Non è neanche caduto Non è stato neanche spinto Martinez L'appoggio a Goresca Che spacca la porta Raga Guardate qui Boom Imparabile Chiaramente per il portiere Che probabilmente Non l'ha neanche vista Molto bene Molto importante Sbloccarla subito Attenzione A Brozovic Se la mette sul destro Brozovic Larsson La mette in calcio D'angolo Attenzione Red Bull Salzburgo La fonte Mamma mia La fonte Parra dei palloni Che sembrano complicati Con una facilità Esemplare Finisce con il primo tempo Signori Tottenham Che dopo il vantaggio In realtà sia un po' spento Però Finiamo il primo tempo Sull'1-0 Attenzione Bale Sulla sinistra Aramaio Lo insegue Bale La mette in mezzo La palla arriva Brozovic Che la stoppa Poi tira di destro Marcelo Brozovic Primo gol Con la maglia Del Tottenham Gran gol Veramente Raga Ottima ripartenza Brozovic Bravissimo ad accompagnare Ottimo lo stop Ottimo il destro Goretzka Che palla Geniale Splendita Per Gareth Bale Che la controlla Se la mette sul mancino Attende l'arrivo di nuovo Di Leon Goretzka Che col destro Tira un misto Missile terra aria Veramente una grande parata Da parte del portiere Entrata Entrata signori Doppietta di Marcello Gran calcio d'angolo Di Gareth Bale Grande stacco Di Brozovic Onestamente non credevo Potesse entrare questo pallone Mi sembrava abbastanza centrale Rivediamo qua Corner splendido Sul primo pallone Arriva Brozovic Che stacca E beh sì Il pallone era centrale Il portiere Chiaramente sorpreso Da questo colpo di testa Scende molto Però Non era complicato Doppietta di Brozovic Attenzione qui a Oberlaine Che colpisce di testa La Font non ci arriva Si era fatto prendere In controtempo Un TT Che non l'aveva seguito bene Finisce qui dunque Signori Altro 3-0 In Champions Altri tre punti a casa Vediamo un po' Come hanno Mamma mia Rivardiamoci il gol Di Goreesca Raga Guardate Brom Mamma mia Che bomba Che bomba Raga Vittoria meritata Il Salisburgo È stato un pochettino Più pericoloso Rispetto al PSV Che perde Anche contro la Roma Bene ragazzi Il video finisce qui Spero ovviamente Vi sia piaciuto È stato un episodio Veramente ma veramente Positivo Tanta ma tanta roba Questo episodio Quindi vi invito A lasciare un bel mi piace Un commento Un consiglio ragazzi Mi raccomando Superate al massimo la serie Noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto alla mezza Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti